Sindaco, la Sagra della Salsiccia, un'occasione, un momento per trascorrere alcune ore così in modo spensierato per gustare della buona salsiccia, quindi all'insegna della gastronomia ed è bello vedere gli amministratori insieme ai cittadini, una partecipazione popolare significativa. Come al solito un momento di socializzazione importante, si inserisce questa Sagra della Salsiccia nelle manifestazioni dell'estate a Leporano sostanzialmente e noi siamo ben felici di contribuire a questa manifestazione che si ripete ogni anno ma soprattutto bisogna dare merito anche all'associazione Castello che non è solo impegnata in questa manifestazione ma anche in altre come ad esempio il Medioevo che comunque si inserisce nel cartellone prepotentemente come manifestazione di eccellenza. L'importanza di un connubio tra istituzioni e associazionismo? È importantissimo perché senza questo connubio non si va da nessuna parte noi puntiamo al turismo a rendere questo territorio appetibile sotto tutti gli aspetti perché vogliamo portare qui turisti ed è importante chiaramente che l'amministrazione viaggi insieme all'associazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!